eccoci di nuovo qui ancora a parlare del sensore ma come vi avevo anticipato nella precedente lezione adesso andremo a scoprire come mai le nostre macchine fotografiche riescono a riprodurre i colori il sensore quindi produce per ogni tono della scena inquadrata un tono di grigio e arriva tot luce e riproduce tot corrente ci siamo quindi l'immagine alla fine viene in bianco e nero come vediamo dalla slide il sensore così com'è riprodurrebbe un'immagine prettamente in bianco e nero allora si è pensato bene di anteporre al sensore un filtro colorato dove per ogni pixel corrisponde un colore si chiama filtro di buyer quindi su ogni pixel del sensore abbiamo messo un pixel colorato rosso blu o verde rgb quando il sensore riceve le informazioni le riceve a questo punto colorate su un pixel riceverà un'informazione blu su un pixel riceverà un'informazione verde e viceversa sommando tutte le informazioni dividendole per il numero delle stesse si ottiene la demosaicizzazione ovvero un algoritmo che prende i colori dei vari pixel nell'immagine in questo caso li va a sommare come abbiamo detto e a dividere per il numero quindi fa una media e trova il colore medio di ogni parte e da qui ne deriva appunto l'algoritmo di demosaicizzazione che noi abbiamo fatto semplice abbiamo sommato il rosso il verde e il blu di pixel adiacente l'abbiamo diviso per tre o per quattro per quello che è poi il pattern dell'algoritmo e da qui ne deriva l'immagine a colori a sinistra in questa slide in basso vedete come può essere l'immagine prima della demosaicizzazione ovvero l'immagine registrata con il filtro anteposto al sensore subito dopo viene applicato questo metodo questo algoritmo e quindi viene decifrata un'immagine e trasformata in quella che poi noi vediamo a monitor che cosa porta questa cosa ecco vedete qui i riflessi del sensore che abbiamo visto in una delle prime lezioni quelli sono i riflessi del filtro di buyer dicevamo che cosa comporta questa cosa comporta che la macchina fotografica genera due tipi di file che approfondiremo poi più avanti ovvero il primo file è il jpeg cioè il foto il formato di foto che tutti conosciamo che ci permette un utilizzo rapido della fotografia senza tanti fronzoli e la condivisione immediata e poi produce il file raw ovvero grezzo che cosa significa questo significa che il sensore in virtù proprio di questa analisi che fa attraverso la demosaicizzazione può operare in due modi in uno attraverso il processore della macchina può creare un file jpeg direttamente in questo caso vedete indicato con la freccia rossa il tipo di jpeg alla massima qualità oppure può salvare il file in formato negativo senza applicare la demosaicizzazione e lasciare a noi questo intervento attraverso poi le operazioni fatte a computer attraverso i programmi di post produzione come lightroom o camera raw e questo è il formato grezzo adesso vi ho dato un'indicazione di massima poi lo vedremo ben in seguito ma giusto per farvi capire che cosa sono queste due cose nel menu della macchina fotografica in questo caso vedete il menu di una moderna reflex vi chiede proprio come prima cosa qual è la qualità dell'immagine che cosa volete utilizzare il jpeg o il raw e qui andiamo a scegliere mentre nel menu rapido sempre di una macchina fotografica reflex della canon troviamo anche lì la possibilità di scegliere o il jpeg o il raw quindi abbiamo capito che il sensore per fare il colore antepone un filtro colorato e genera poi un file grezzo che va demosaicizzato in base ad un algoritmo dove si sommano i colori e si dividono per il numero dei pixel che sono stati considerati ecco quell'operazione genera un file jpeg cioè la demosaicizzazione mentre se noi andiamo a lavorare direttamente su un file raw la demosaicizzazione la facciamo noi una volta che esportiamo poi il file post prodotto adesso vi lascio e vi rimando alla successiva lezione dove scopriremo però bene che cos'è il colore perché fino adesso abbiamo parlato di colore ma il colore ma che cos'è grazie a tutti